Salutiamo, sessi immediatamente, sfracciando, ordine, sfracciando, sfracciando. Sfracciando, sfracciando, sfracciando. Sfracciando, sfracciando, sfracciando. Sfracciando, sfracciando, sfracciando. Sfracciando, 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 sfracciando. Sfracciando, 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 sfracciando. Prontasi. 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 Pronta, straccia, straccia, sessi, muratori, ordini, straccia, 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 sessi, immediato, giusto, Pronta, sun, salutamos Pronto, sun? Sessi Sessi, bracciali, tagli a legna Pronto, sun, bene giusto giusto immediatamente giusto giusto muraturi ordini muraturi come faccio capim combattim a vostro servizio si immediatamente giusto immediatamente muraturi se signori se signori se signori si attaccati a vostro servizio si attaccati 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 sensi muraturi si attaccati attaccati muraturi si attaccati 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 Sì! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.